Prendete Piazza Erbe, in particolare Palazzo Maffei, frequentato dai cambiatori, prima era il luogo dove si facevano gli affari, poi divenne la residenza quattrocentesca dei potenti di allora. Sul lato lungo invece ecco le case mazzanti, simboli per eccellenza della città dipinta, erano di proprietà di una famiglia di speziali. Un tempo c'erano botteghe preziose, infatti dove ora ci sono i tanti bar. Per guardarsi intorno con gli occhi della storia ha di certo il suo fascino, lo sanno bene i ragazzi di parentesi storiche, studenti e studiosi universitari di tutta Italia che si danno appuntamento online per raccontare la storia della loro città e non solo. Un'età media di 25 anni è un obiettivo, quello di rendere leggera e interessante la nostra quotidianità, ovviamente nella sua essenza storica come si legge nello statuto del progetto nato proprio a Verona. Nel 2011 abbiamo coinvolto un buon numero di studenti di storia da tutta Italia per cimentarci in un laboratorio di scrittura storica. Una formazione universitaria, conoscenze metodologiche e capacità critiche sono le condizioni per partecipare. Un approccio accademico ma una narrazione che vuole arrivare a tutti. Senza soporifere definizioni si attraversa così la storia antica, le rivoluzioni moderne per arrivare alle sfide contemporanee. Ma c'è spazio anche per il futuro. Il prossimo passo è la pubblicazione di una rivista a quaderni di parentesi storiche.